Pronti? Via! Via! Io sono una sicuretta lei e tu chi sei? Io sono Patrizia Bambi Mamma che amore! Ah, io sono lei Patrizia Bambi Patrizia Bambi Dicci, dici, chi è questa Patrizia Bambi? Io sono quanto vedendo, meraviglioso, siamo tutte due torate e raccomandoci un po' di te io sono innanzitutto, non onorata di più ti seguo da quando ho 15 anni Sempre Dall'inizio proprio Ero piccina, ero piccina però ero pissata con Patrizia Bambi Io in genere ho le mie enti un po' disutilizzate è vero? E lo dicevo prima, possiamo dire una cosa gli abiti di Patrizia durano una vita cioè io sono la testimonianza che dicevo prima a lei che c'è mio fidanzato e uso sempre le stesse mani e mi dicevo a cambio ma io sono affezionata ci sono ancora perfette e mi succeda anche a me fai un giretto con me gira a sinistra gira, gira, gira che facciamo vedere questo bellissimo tuo store la vedete? un po' là dietro eccoci eccoci sono gli abiti di dieta facciamoli vedere davvero guardate gli abiti che ho questa tuta rossa meravigliosa sempre di Patrizia e lavoriamo tutti e due sul Natale perchè io lavoro sui desideri quindi Natale è perfetto tu lavori sull'oro e quindi i desideri dorati è un binomio perfetto il binomio perfetto assolutamente si senti com'è questa bella Fiorentina a Milano per questo evento? sei contenta? sono molto contenta sono molto contenta sono molto contenta perchè vedo partecipazione da parte dei clienti che mi sono soddisfatti ecco si sentono colpolate e questo ne volevo fare noi ti seguiamo Patrizia ti vogliamo tanto bene è vero è vero è vero c'è un tuo desiderio fare la ballerina la ballerina io sono il mio primo padre è il mio desiderio nascosto sempre fatto io comunque fallo fallo una nonna professionista è un'opera e allora io ti seguo pure quando guardi avrei voluto fare una ballerina la ballerina di fila però mi sarebbe passata amore che bello senti dopo me lo fai un autografo si allora tanti tanti baci dalla Simo e da Patrizia Pepe sono molto contenta di essere qua tanti baci tanti baci ciao